Prima di dare inizio all'evento invito la regia a mandare in onda il video spot che dura un minuto che racconta l'attività che l'asilo Savoia svolge nell'ambito del programma Talento e Tenacia con la società sportiva di calcio sequestrata al clan Grambacurta un anno fa Montespaccato Savoia. C'è un luogo dove la storia si incontra con le storie di tutti noi, dove l'inclusione è un valore comune, dove lo sport ti fa crescere e ti prepara alle sfide della vita ogni giorno, unendo formazione e lavoro, solidarietà e voglia di fare, amicizia e creatività. Un luogo in cui ogni ragazzo può scegliere di essere uomo. Decidere di mettersi in gioco per sé e per gli altri, con entusiasmo, passione, responsabilità, tutti insieme. Questa è la nostra storia. Questa è la storia di Talento e Tenacia. Bene, come dicevo questa iniziativa avviene nell'ambito del programma Talento e Tenacia Crescere nella Legalità che è un programma che l'asilo Savoia promuove dal 2016 insieme alla Regione Lazio, anzi ringrazio Gian Piero Cioffredi, presidente dell'osservatorio Legalità Sicurezza della Regione Lazio che è qui tra gli ospiti e con il Tribunale di Roma. In particolare nel corso di questi ultimi due anni abbiamo recuperato due strutture confiscate e sequestrate dalla criminalità organizzata. Una è una struttura sita nel porto turistico di Ostia dove è stata presentata e costituita ed operante con oltre 1200 iscritti, la palestra della legalità dove tra l'altro hanno trovato occupazione parecchi ragazzi della squadra di calcio e l'altra invece è la struttura che è stata sequestrata a giugno dell'anno scorso al Gamba Curta, un clan di cui ci sono ampie tracce sia nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale che all'interno dell'inchiesta Ampa che ha portato a 60 arresti per usura, traffico internazionale e stupefacenti aggravati dal metodo mafioso. Questo impianto rischiava di essere chiuso e di privare appunto il quartiere, tutte le famiglie del quartiere, sono più di 600 i ragazzi e i bambini che frequentano questo centro sportivo, dell'unico luogo di aggregazione. Quindi su richiesta della Regione Lazio e del Tribunale di Roma l'Asilo Savoia ha assunto la gestione di questo impianto sportivo compresa la prima squadra che oggi è stata ribattezzata Montespaccato Savoia che è composta dai ragazzi che vedete qui in sala. Attualmente siamo diciamo in terza posizione ma non è il risultato agonistico che conta, è quello che c'è dietro la vetrina delle partite di calcio e che oggi vi proviamo a raccontare attraverso la storia esemplare di uno dei ragazzi che ha frequentato il nostro programma, che è stato insieme al nostro programma nel 2017, Caemone Calì. Invito qui sul palco Francesco Montanari, grazie Francesco che si è reso disponibile per partecipare a questa iniziativa come testimonial. Daniele Piervincenzi che è l'autore del cortometraggio oltre che è un altro amico leale e sincero dell'Asilo Savoia e Valerio Carocci. Promotore, non c'è bisogno di ricordare la sua attività, promotore del Cinema America, del Cinema in piazza con cui appunto tra l'altro facciamo anche il premio Talento e Tenacia ogni anno, è giunto ormai quest'anno alla quarta edizione. Ognuno di loro ha un motivo ben preciso per essere qui oggi e ci doveva essere anche il protagonista di questo cortometraggio che è Mone Calì, però sapete le regole del calcio professionistico sono molto severe e soprattutto sono anche imprevedibili perché ieri sera ha perso il derby, il Catanzaro ha perso il derby, esatto, in pratica è stato dimissionato anche l'allenatore Auteri due ore fa, quindi in pratica sono tutti in albergo chiusi in un ritiro infinito in attesa della prossima partita e quindi prima di iniziare invito gli ospiti ad accomodarsi, proprio per iniziare ci ha mandato però un video saluto a Mone e quindi vediamo il video saluto di Mone. Buonasera a tutti, purtroppo oggi non sarò presente all'evento perché in vista di una partita molto importante la società dove sono ora ha deciso di portare tutta la squadra di ritiro, non posso non eseguire le regole ma ci tengo a ringraziare tra tutti i partecipanti, in particolare tutti i miei ex compagni di squadra, Daniele Piervincenzi che mi ha fatto sentire veramente a mio agio durante le riprese e naturalmente il presidente Massimiliano Monnanni che da due anni in questa parte mi ha seguito passo passo per farmi tornare tra professionista. Un ringraziamento speciale anche a Francesco Montanari, uno dei miei attori preferiti che ho avuto la fortuna di conoscere di Paleto Ghiacchiere e anche a Valerio Carocci e un ringraziamento per tutto quello che fa per il mio quartiere. Spero che la mia storia possa essere ad esempio a tanti ragazzi che ci credono ancora, magari proprio a partire dai ragazzi di Montespaccato. Ora mi preparo per andare in ritiro, grazie ancora a tutti e forza a Giallo Rossi. Lui ancora non sapeva che c'erano le dimissioni fresche di Auteri, quindi sono state comunicate due ore fa. Esatto, esattamente. Proprio a Daniele vorrei fare la prima domanda, prima poi di iniziare la visione del cortometraggio sul quale poi a seguire faremo un botta e risposta magari col pubblico. Le regole dello sport professionistico, tu oltre che giornalista sei anche uno sportivo di rugby, vieni da una famiglia di sportivi. Sì, da una famiglia di sportivi, però io sono la pecora nera di una famiglia di calciatori. A casa mia hanno giocato tutti a pallone e sono tutti bravi, quindi io che ero su tre maschi, insomma quello meno bravo, intelligentemente sono stato dirottato verso il campo di rugby ma felicemente perché poi per me è stata una grande opportunità, l'opportunità di conoscere uno sport di valori ma anche quella di conoscere degli amici che sono gli amici di una vita, conosciuti sul campo. Devo dire che però conoscere l'ambiente calcistico di riflesso attraverso le carriere dei miei fratelli, alla passione di mio padre, insomma segnava una distanza. Il mio ambiente, quello del rugby era molto diverso, soprattutto nel calcio giovanile. I miei fratelli hanno giocato con la Lazio, insomma con tutte le società importanti e la competizione, il risultato, l'agonismo esasperato, insomma non è che lo hanno vissuto benissimo, cioè loro erano contenti, però un po' ha schiacciato ragazzi in età adolescenziale che forse dovevano avere un approccio allo sport un pochino come dire più gioioso, più sereno. Beh io nel rugby era tutto molto più simpatico, quindi si vinceva o si perdeva si finiva sempre a tavola con una birra davanti, quindi potete immaginare che per noi era un pochino più leggero. La cosa che io ho ritrovato del mio vissuto sportivo l'ho ritrovato nel Monte Spaccato Calcio, cioè nell'approccio di Massimiliano Monanni e dei ragazzi dell'asilo Savoglia del Monte Spaccato, che però insomma fanno anche risultato, quindi evidentemente si riesce ad arrivare a una sintesi fra divertirsi, seguire le regole, avere dei principi e portare a casa anche qualche bella vittoria. Grazie Daniele. A Valerio invece chiederei, dunque Valerio ripeto c'è più motivi per essere qui oggi, uno è tra l'altro che conosce Aimone, perché proprio a Piazza San Cosimato, infatti poi vedrete il cortometraggio parte da Piazza San Cosimato, quindi come l'hai conosciuto, come si è interfacciato con le attività che voi fate per il quartiere? Sì, allora intanto siamo i ragazzi che fanno l'arena in Piazza San Cosimato e siamo nati nel rapporto con questo territorio, anche se non siamo di Trastevere, quindi le prime volte che siamo arrivati nel Rione naturalmente c'era un pochino di negligenza nei nostri confronti perché eravamo dei ragazzi di altri quartieri che erano arrivati lì ad animare una piazza che giustamente chi c'era nato e cresciuto sentiva propria. Negli anni siamo stati molto attenti, molto rispettosi di chi appunto stava lì prima di noi, abbiamo costruito un rapporto e Aimone è stato uno dei primi ad accoglierci, poi il percorso si è intrecciato insieme all'asilo Savoia che è diventato un partner della manifestazione e quindi ci siamo ritrovati nella bella casualità di premiare Aimone proprio a Piazza San Cosimato dove ha iniziato a giocare a pallone. È stato importante perché poi tra ragazzi quando le commitive che abitano e vivono un luogo in qualche modo ti rispettano e ti riconoscono cambia anche il rapporto con tutto il tessuto sociale. Grazie Valerio. A Francesco ovviamente è uomo di spettacolo, attore, esempio per tutti i personaggi iconici che tu hai rappresentato, sia nella parte giusta da quella sbagliata insomma, sia come uomo di legge, magistrato e anche come fondatore della banda della Magliano. Un tuo, tu mi hai detto che non diciamo del calcio insomma, non ti interessi molto. È morto? No, è vivo, è vivo. Buonasera, buonasera. No sì, io non frequento molto il calcio perché non c'è un motivo in realtà, non ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere una famiglia molto attenta e attaccata a questo. No, io sono una fortissima pippa. Io sono proprio una fortissima, tant'è che mi mettevano sempre in porta, capito? E poi ho cominciato a fare teatro proprio perché non volevo più subire anche lì. Sì, 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 assolutamente. Io proprio non... No, però in realtà al di là di tutto, insomma, della grande opportunità che vuoi fare, io vengo da un quartiere che si chiama Alessandrino ed è un presente, c'è 100 c'è... Abbiamo il nostro portiere, eh, che è Alessandrino, Tassi. Tassi, eh, grandissimo! Siamo nella stessa... Tu sei un po' più giovane di me magari? Quanti anni c'hai tu? Eh, io 35, 10 anni più, vabbè. Però, insomma, mi ricordo molto le dinamiche di quartiere, no? Che magari adesso ho pure cambiato un po' il quartiere, non lo so, forse no, eh, infatti. Insomma, la cosa che mi colpiva tanto, la cosa che mi colpiva tanto tra i miei amici di quartiere era questa proprio idea che non ci potesse essere nient'altro di quello che c'era. Nel bene e nel male, perché non è che io sono cresciuto nelle favelas, eh, badate bene, cioè non è che l'Alessandrino è un quartiere appunto di favelas. No, assolutamente no. Però, insomma, questa mancanza assoluta della possibilità di sognare. Ecco. Il sognare non è necessariamente debuttare in Serie A, non è necessariamente diventare un attore, non è necessariamente... Cioè, il sognare è soggettivo, no? Ognuno ha i propri sogni, è rispettabilissimo e dignitosi. Però credo che quello che voi fate sia proprio la dignità e la, come dire, la consegna di questa possibilità di sognare. Che però non è, non rimane soltanto un'utopia, non rimane soltanto un'illusione, diventa pragmaticamente molto concreta. E questa è una cosa per cui io combatto, ho sempre combattuto e sono qui e sono felice e onorato di far parte di questo progetto. E ti ringrazio che mi hai chiamato, perché penso proprio che il coraggio che voi consegnate a questi giovani sia il coraggio che... sarà il coraggio che li formerà come uomini. Quindi, forse io vi delego troppe responsabilità adesso, però... Però in realtà è proprio quello, è proprio quello il sogno che io ci vedo. Quindi, grazie a voi. Grazie, Francesco. Allora, prima di dare, diciamo, di iniziare a visionare il cortometraggio e poi faremo un secondo giro di domande, io ho fatto un piccolo pensiero da parte dei ragazzi della palestra ed è la tessera onoraria, che è un privilegio, perché sapete che il socio onorario numero uno è il capo dello Stato, il Presidente Mattarella. La tessera onoraria per la frequenza della palestra di Ostia, la palestra della legalità. E quindi c'è la tessera per Francesco Montanari. Mi toccherà andare in palestra. Eh sì, eh sì. Però ti assicuro che ci sono degli ottimi personal trainer, perché i ragazzi della squadra, insieme ad altri ragazzi e ragazze di Ostia, sono stati formati e quindi hanno, come dire, la competenza sia tecnica che relazionale, perché uno dei, diciamo, dei punti forti della palestra della legalità, dove ricordiamo 350 abbonamenti sono rilasciati a titolo assolutamente gratuito a persone in difficoltà sociale o in difficoltà economiche, a fronte di 1200 iscritti. Quindi siamo circa intorno al 30%, perché il principio è quello di fare un'impresa sociale che non fa utili, ma che consente a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, di sentirsi a proprio agio all'interno di una struttura di qualità, con tecnologia all'avanguardia, ma soprattutto con umanità, accoglienza e capacità di inclusione che danno il senso della differenza rispetto a un'altra palestra, che ha ben conosciuto invece Daniele, e al quale ovviamente consegniamo anche la tessera onoraria. Allora, a questo punto direi di passare direttamente alla visione del corto. Allora, prima di rinvitare gli ospiti, volevo far salire qui un attimo, a sorpresa, perché non lo sa, Elisabetta, che è la mamma di Emone. Allora, intanto se ti è piaciuto il cortometraggio. Sì, emozionante. E poi, insomma, dici, come dire, cosa è stato per te questo percorso di rinascita di Emone a livello umano, professionale, sportivo? Non ho parole. È un momento, sono un attimo emozionata, perché... Sta bene così, dai. Grazie, Elisabetta. Allora, rinvitiamo Francesco Montanari, Daniele Pervincenzi e Valerio Carocci. Eh, certo. Allora, la parola a Francesco. Beh, che... No, nel senso, ci sono... Cioè, nel senso, le immagini parlano, come sempre, molto meglio delle parole, effimere, no? Quindi, mi sembra evidente tutto quello che rappresenta questa realtà per lui, per il protagonista di questa storia, che poi in realtà non è fiction questa, non è finta, cioè, è tutto vero. Quindi, credo che Daniele abbia fatto un grande lavoro, perché sei entrato nella... 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 Insomma, io te lo dico con profonda ammirazione, eh. Non è un... Io non so piacere... Cioè, è proprio un meravigliore che cazzo lo sai. È proprio una cosa del... No, onestamente, hai colto delle... Le sfumature, l'essenziale, il nocciolo della questione di questo ragazzo e di tutta la realtà, no? Sei partito dal microsistema che allarga il macrosistema. Pure chi non conosce lui, chi non conosce te, comunque vede quello che dicevo prima, cioè coerente, cioè vede la possibilità concreta, però, no, del... Di questo sogno, perché poi quando uno dice sogno, pensa sempre a cose, no? Irrealizzabili. No, no, il sogno è un obiettivo. Ecco, io vedo un obiettivo e vedo l'obiettivo che è stato raggiunto e vedo l'amore e la grande passione che c'è dietro a questa cosa. Quindi, complimenti a voi. La cosa che... Grazie, Francesco, no? Poi lo so che sei spietato, quindi questo è il complimento che mi prendo con tutto il cuore. Onesto, più che spietato, onesto. Onesto, onesto, onesto. No, la cosa che a noi ci ha fatto innamorare di questa storia, perché poi noi di storia ne raccontiamo tante, purtroppo non sempre belle, anzi, più delle volte brutte. Quello che ci ha fatto innamorare di questa storia è stato come ce l'ha raccontata Massimiliano Monanni, raccontandoci la seconda possibilità di un ragazzo. E la seconda possibilità a volte non arriva mai. Questa volta, invece, questa seconda chance c'era. E Aimone Calì, pur essendo molto giovane, era consapevole che questo era l'ultimo treno. Cioè che questo era il treno che ripassava. E non era detto, perché nel calcio spesso il treno non passa due volte. Anzi, quasi mai. E incontrando Aimone e parlandoci, ci siamo resi conto che questa era la sua vocazione. Cioè che Aimone Calì era felice solamente se riusciva a esprimere se stesso su un campo di calcio. E per farlo sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa. Anche a tornare indietro, a rifare i sacrifici che forse non era in grado di fare, troppo giovane, qualche anno prima. E lui aspettava solamente un pazzo come Massiliano Monanni che gli garantisse una seconda chance. E questa seconda chance se l'è presa. Ed è stata una cosa bella. È stato bello vedere un ragazzo di vent'anni che si riprendeva una possibilità. Perché noi abbiamo raccontato tanto spessissimo, purtroppo, di ragazzi che di possibilità non ne hanno. Non ne hanno mai avute. E che hanno delle vite perse. Un ragazzo come Aimone, invece, c'è questa seconda possibilità, se l'è presa e se l'è conquistata. E se la sta giocando. E questo a noi, insomma, nel piccolissimo pezzo di strada che abbiamo fatto insieme, questa cosa ci ha riempito d'orgoglio. È stato molto bello. No, io scusate, poi sto zitto, taggerò per sempre, giuro. No, volevo dire che, secondo me, la grande autenticità che c'è dietro questa operazione viene dimostrata dalla commozione di Massimiliano. Ora, io non sono parente di Massimiliano, non sono amico di Massimiliano. Ci siamo visti due volte, questa è la seconda, ok? Quindi non ho nessun interesse a dire questa cosa. Però, questo vuol dire che evidentemente questa persona crede, e con tutto il team che ti porti dietro, crede fortemente, no? in questa... E quindi quando uno crede fortemente fa di tutto per realizzare. Ma lo sai, Fra, che mi ha impedito di montare le immagini in cui si commuoveva? Eh, vedi, hai immaginato. Cioè, nell'intervista lui era ovviamente emozionatissimo e mi ha proibito. Mi ha detto, queste qua, tu non le metti. Ma a me questo mi ha mai detto nessuno, ha detto Massimiliano. E lui mi ha proibito, io non ho potuto farlo. A Valerio chiediamo, tu fai anche parte della commissione. Sì, volevo aggiungere una cosa che anche noi l'abbiamo conosciuto Massimiliano in realtà sul rapporto più istituzionale, quindi non sul campo di calcio e ci ha insegnato molto da quattro anni a questa parte. Io mi ricordo la prima volta che mi ha mandato una bozza di lettera solo come aveva messo l'intestazione, la firma e le prime tre parole era cento volte diversa dalla nostra con una formalità che non avrei mai raggiunto e da quel giorno ho copiato quella lettera in tantissime altre situazioni perché era perfetta. Però no, al di là di questo e quindi del ringraziamento dell'opportunità che anche a noi ci ha dato di confrontarci, ricordo anche quando abbiamo fatto il bellissimo evento con Dario Argento al villino Crespi che è un villino sempre che aveva gestito Massimiliano famoso per le location dei film, volevo dire che quando con il direttore artistico della festa del cinema di Roma Antonio Monda abbiamo visto il cortometraggio ci abbiamo tenuto tantissimo affinché fosse all'interno della festa quindi il ringraziamento e le congratulazioni di tutta la selezione della festa del cinema di Roma perché al di là dell'oggetto del racconto il cortometraggio è bellissimo quindi da parte mia e della direzione artistica complimenti. grazie allora è importante dare due comunicazioni di servizio diciamo allora questo cortometraggio è in competizione in due festival dedicati allo sport uno è il quarantesimo sport film festival che si tiene a Palermo giunto appunto alla quarantesima edizione e l'altro invece è la non edizione del Matera sport film festival quest'anno Matera è anche capitale europea della cultura quindi incrociamo le dita magari può darsi che questa opera riesca a tenere anche un riconoscimento di questo tipo però la cosa più importante non è questa ma è la collaborazione che ci è stata confermata dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca la scorsa settimana che renderà possibile diciamo la circuitazione di questo cortometraggio nelle scuole ovviamente partiremo proprio da Monte Spaccato perché è da più di un anno che stiamo lavorando lì e c'è stata per molti mesi questa tendenza a sminuire che in fondo non era accaduto nulla poi alcune persone circolavano ancora anche perché diciamo sono in atto i processi e quindi c'era una tendenza diciamo a diminuire l'entità di quello che è accaduto e quindi questo esattamente e infatti questo strumento per noi è molto importante perché partendo dalla storia di Aimone e con tra virgolette la scusa del pallone noi riusciremo negli istituti scolastici del tredicesimo municipio e poi ci auguriamo anche appunto grazie al ministero anche in altri contesti a far capire bene i ragazzi e le ragazze di quel quartiere che cosa è avvenuto e per tanti anni perché nessuno tutti hanno fatto finta di niente di non vedere quello che accadeva e che era sotto gli occhi di tutti quindi questo cortometraggio per noi il grande valore infatti io ringrazio nuovamente Daniele che ha prestato gratuitamente la propria professionalità per realizzare questo cortometraggio è importante ricordarlo perché non è affatto scontato ringrazio per la clemenza perché poi noi facciamo i giornalisti quindi avventurarci nel mondo non succederà più è solo grazie a Massimiliano uno può tornare a fare proprio mestiere ma come ha visto noi non possiamo spingerci e quindi diciamo sarà importante questo aspetto non so se ci sono delle domande in sala qualcuno vuole fare la domanda a Valerio Carocci a Francesco Montanario a Daniele Bervincenzi oppure vi volete fare delle domande reciprocamente prego qualche volta ma voglio sapere se Aimone Calì anche durante gli allenamenti che secondo me è molto importante per un giocatore abbiamo visto anche vari flop come Cassano Balotelli si ha sempre avuto il dono dell'umiltà negli allenamenti con voi ma questo io lo farei dire a qualcuno dei compagni di squadra chi vuole venire Guiducci vieni qua tu che lo conosci bene Aimone dai come vuoi tanto sei talmente alto che puoi stare anche va bene Aimone scherzavamo tanto era un megalomane dai però era scherzoso sempre nel senso ci ridevi su diciamo un po' girava tutto intorno a lui ma a noi andava bene così senza presunzione senza niente lui era questo poi i fatti parlavano tante volte ci ha fatto vincere partite che senza di lui non potevamo vincere la domanda è molto precisa come si allenava con umiltà perché io l'ho sempre visto prima arrivare e ultima andarsene per quello che posso dire io non era una persona anzi sono rimasto colpito da alcuni ragazzi della Juniors e qui ce n'è qualcuno Cecchetti che sicura che l'anno scorso era anche diciamo in condominio tra la Juniors e la squadra che all'inizio non mi ricordo chi me l'ha detto non Bruno un altro ragazzo diceva Presidente ma mi ha rivolto la parola perché quando è arrivato si pensavano essendo il capocannoniere cioè quindi come se fossero loro come dire era Minciacchi ah Minciacchi Jim Minciacchi un altro ragazzo della squadra esattamente su quell'aspetto umano e anche professionista era niente da dire niente da dire una parola ce l'ha per tutti sempre chiunque adesso continua a rimanere in contatto tra l'altro lui è ancora nella chat interna della squadra perché per noi è diciamo calciatore ad onore del Monte Spaccato si ma pure quando viene al campo e ci viene a trovare l'atteggiamento suo è sempre lo stesso con tutti i ragazzi ride scherza come se non se ne fosse mai andato alla squadra e in effetti è così grazie Nico altre domande beh diciamo che al Catanzaro fino adesso ha esordito la prima partita a cui ha partecipato fin dall'inizio da titolare ha segnato il primo gol del Catanzaro è stato segnato dai Mone Calì dopodiché è ovvio le scelte tecniche ha giocato poco 10 minuti 12 minuti da oggi non c'è più Auteli allenatore del Catanzaro quindi vedremo il nuovo allenatore bene posso si Sebastiano prego allora un fuori programma oggi doveva essere presente il presidente della Viterbese Calcio che è stato invitato da Massimiliano e voleva portare i saluti a questo progetto sociale li porto io come dirigente della Viterbese Calcio diciamo che è un progetto sociale molto importante peraltro sono anche consigliere dell'asilo Savoia però noi guardiamo più che altro il lato tecnico della squadra e ci sono moltissimi elementi alcuni elementi molto bravi nessuno sa però che abbiamo chiesto e abbiamo detto a Massimiliano di poter contribuire con la sua generalità con la Viterbese quindi diciamo io lo dico anche se Massimiliano probabilmente si potrà arrabbiare ma Massimiliano è pure un dirigente della Viterbese a titolo gratuito e praticamente è responsabile del marketing degli eventi quindi abbiamo praticamente chiesto la generalità di Massimiliano io porto i saluti della Viterbese calcio in nome del presidente romano grazie Sebastiano con la Viterbese è nata una partnership diciamo importante perché è una delle squadre laziali in serie C sta facendo anche un buon lavoro e quindi pensiamo che per i ragazzi di Talento e Tenacia possa essere uno sbocco professionale perché non vi nascondo che anche per Aimone quando è stato richiesto tramite l'Atalanta di cui lui è un calciatore perché al Catanzaro è andato in prestito immaginarsi improvvisamente cambiare tutto e andare a Catanzaro che è molto lontano è anche diciamo una logistica anche se anche noi abbiamo un calciatore un ragazzo di Talento e Tenacia dove è Nanci che non lo vedo? Eccolo salvo che è uno catanzarese doc che è nel nostro programma ormai da tre anni e quindi lui è stato un po' la persona che è introdotta a Catanzaro Aimone giusto? Bene allora se non ci sono altri interventi io direi grazie a tutti abbiamo concluso l'attività prima del previsto quindi in perfetto tempo senza creare danni a chi verrà dopo di noi grazie grazie grazie